Alla fine l'annuncio che tutti negli Stati Uniti attendevano è arrivato. Donald Trump sancisce la fine dello shutdown più lungo nella storia del Paese. Il blocco degli stipendi e delle attività federali è durato oltre un mese, ma il Presidente si è affrettato a precisare che si tratta di una sospensione soltanto temporanea. Lasciatemi parlare molto chiaramente. Non abbiamo altra scelta che costruire un grande muro per contenere l'immigrazione al confine messicano. Se su questo non dovessimo raggiungere un accordo con il Congresso, il Governo inizierà un nuovo shutdown a partire dal 15 febbraio, o in ogni caso sarò costretto ad usare i miei poteri costituzionali per affrontare questa emergenza. Arrivato al 35esimo giorno, con oltre 800.000 dipendenti federali rimasti senza stipendio, lo shutdown ha provocato gravi disagi ai cittadini che nelle ultime settimane hanno trovato caselli autostradali sbarrati e voli cancellati in aeroporti strategici. Per scongiurare un nuovo imminente blocco, una commissione bipartisan lavorerà un pacchetto di norme per rafforzare la sicurezza al confine.